Mandrago la prestazione è convincente, ci voleva anche perché ad Ascoli la squadra non meritava di perdere, il bilancio è positivo per Trapani? Sì, il bilancio di Trapani è sicuramente positivo per la partita di Ascoli, non meritavamo di perdere per il gioco che abbiamo espresso durante i primi 60 minuti di gara, però il risultato purtroppo non è stato a nostro favore. Voi come avete gestito anche queste critiche passando appunto dalla partita di Ascoli a quella di Trapani? Purtroppo le critiche fanno parte del gioco, quindi ci hanno messi a lavorare insieme allo staff, al mister e alla squadra e siamo riusciti ad ottenere la vittoria di Trapani. Stai trovando sempre più la tua dimensione in questo centrocampo dove tu sei anche il fulcro nonostante la giovane età? Sì, io cerco di fare tutto quello che mi dice il mister e cerco di fare del mio meglio in funzione della squadra. Dal mister che spunti trai da Oddo? Come ti sta guidando, come ti sta gestendo? No, mi guida come guida tutti i membri della squadra diciamo, siamo tutti uguali. Prospettive, tu non sei di proprietà del Pescara ma ti stai mettendo in grande evidenza, pensi un po' più in là, pensi oltre? No, ora no, ora penso al Pescara, penso a fare bene qui a Pescara, poi vediamo alla fine dell'anno. Mediardì la Pro Vercelli, non bisogna guardare la classifica, non è necessario farsi fuorviare dalla situazione della Pro Vercelli? No, non bisogna guardare per nulla la classifica, bisogna andare in campo cattivi e cercare di ottenere i tre punti. Grazie. Grazie.